cerchio e seno cerchio e seno attraverso nt a cura di vb domanda alexander io ho notato un cambiamento enorme dalla prima volta che tu sei venuto è come se ti fossi arricchito sul piano del sapere alexander questo è importante le esperienze che viviamo insieme a voi sono molto utili a noi disincarnati questo non vi stupirà spero quando i maestri intervengono ricordate che le loro lezioni non sono esclusivamente per voi una moltitudine infinita di entità sono qui ad ascoltarli voi direte ma perché hanno bisogno di venire qua e sentire un maestro che si manifesta attraverso un medium certamente perché sono entità che per il loro sentire per la loro condizione evolutiva non potrebbero mai nel mondo dei disincarnati avere un contatto diretto con i maestri ossia con quelle entità che sono su un piano superiore ci deve essere un abbassamento da parte dei maestri appunto tornando nella materia attraverso un medium affinché sia possibile una trasfusione di sapere per quelle entità che hanno bisogno avete presente il principio dei vasi comunicanti ecco è questo un pochino ciò che accade voi sapete perché vi è stato detto in altre occasioni che entità che sono per esempio sul piano astrale non possono percepire entità che sono sul piano acasico è proprio impedito dalla legge evolutiva universale bene cosa deve fare un'entità che è sul piano acasico scendere sul piano astrale e siccome questo non è possibile deve allora usare uno strumento sul piano terreno affinché quelle entità che gravitano vicino al piano terreno possano ricevere questi insegnamenti attraverso il piano che si sono calzati insieme ad unerkt sui attraverso il piano ha un pochino frattato che si è un pochino frattato di un piano